Buonasera, eccoci qua presenti anche nella serata di maltempo. Marco, andata allerta fino alle 14, gialla fino a domani alle 14, giusto? Ciao Marco, buonasera. Sì, sembra proprio che il calendario che dice 22 settembre, ci voglia far capire anche a livello meteorologico che l'estate è ormai finita. Un po' le temperature sono quelle tipiche del periodo, cioè non troppo fredde ma sicuramente lontane dal calore della settimana scorsa, possiamo anche aggiungere fortunatamente, però siamo qui a informarvi su questa pandemia che per quanto riguarda il dato praticamente odierno potremmo dire che c'è un rallentamento dell'aumento, perché c'è pur sempre un aumento, però la situazione è sempre abbastanza in ascesa, in ascesa in Italia, soprattutto però in ascesa fuori dai confini italiani, ma avremo modo da parlarne più tardi. Abbiamo subito invece da cosa fare? Da leggere i dati della protezione civile, quelli relativi all'Italia, alla nostra nazione. Iniziamo subito dai dati, come il grafico della protezione civile con la sfondo scuro. Marco, guardiamo insieme che oggi abbiamo 967 guariti nelle ultime 24 ore. Stiamo sfiorando i 220 mila guariti dall'inizio della pandemia. Abbiamo però anche in salita il numero degli attualmente positivi, 45.489 oggi in Italia, fra quelli tamponati, sono positivi ancora. Sono deceduti purtroppo 35.738 persone dall'inizio della pandemia e oggi abbiamo superato la quota fisiologica dei totali casi positivi di 300.000. 300.897. Ben 1.392 tamponi positivi nuovi in più rispetto a ieri. Questi sono i dati nazionali un po' insunto. Andiamo a vederli più nel dettaglio col grafico 1, Marco, che ci dice quanti nuovi tamponi sono stati trovati oggi, 22 settembre. 1.392. 1.392 nuovi tamponi, che se andiamo a vedere però quanti tamponi sono stati fatti col grafico 3, come sempre facciamo, eccolo qua il dato. I dati del 22 settembre si attestano a 87.303 nuovi tamponi fatti nelle 24 ore. Oggi essendo martedì il numero nuovamente risale rispetto al dato del weekend, soprattutto quello del lunedì, come vedete era molto più basso, era, non dico la metà, ma era poco sopra i 50.000 ieri. Non è da record quello di oggi, specifichiamolo, però è un dato in aumento. E quindi andiamo come sempre a vedere il rapporto fra questi due dati, col grafico 0.8, e insieme a questi due dati riusciamo a sapere che abbiamo una percentuale di positivi sui tamponi fatti in totale pari all'1,6%. Quindi ieri avevamo avuto tanti positivi e pochi tamponi, infatti vedete lì vicino c'è un istogramma più alto, ben più alto, era al due e mezzo, due e quattro ieri, alto anche nella giornata di domenica, sfiorava al due, oggi siamo tornati a un valore, diciamo, nella media dell'ultimo mese. Come vedete bene o male siamo nella media, anche se purtroppo questi tamponi continuano a essere di giorno in giorno presenti, sopra le migliaia, anzi 1.600, 1.500, 1.800, la percentuale rispetto ai tamponi fatti rimane bene o male costante. Andiamo a vedere Marco, invece il grafico 0.9, il grafico 0.9 riguarda sempre il numero in percentuale, in questo caso fra i positivi sui nuovi casi testati e quelli totali, escludendo quelli di controllo. Quindi poche parole riguarda le persone trovate positive oggi, siamo al 2,8%. Un valore anche questo che si attesta costante nella media del periodo, ricordiamoci che per l'OMS, per il quittato tecnico scientifico sotto il 4% stiamo tranquilli. Questo è un dato che ci aveva fornito proprio il tabolo del comitato tecnico scientifico sul finire della pandemia. Andiamo avanti ancora, guardiamo il dato del grafico 0.1 Marco, il grafico 0.1 ci parla dei nuovi tamponi giornalieri positivi. Oggi 1.392 l'abbiamo detto e andiamo con il grafico 0.2 invece che parliamo dell'aumento degli attualmente positivi, che è un altro dato interessante, anzi io mi permetto di dire che questo è il termometro della pandemia, ovvero sia gli attualmente positivi indicano quanti sono oggi positivi, e lo vedete lì scritto 45.489, e il suo aumento o lo suo decremento. Vi ricordate che in pieno inizio estate fino a ferragosto c'erano molti listelli in verde in questo grafico. Da ferragosto in poi purtroppo c'è stata una continua crescita lenta, più o meno, oggi siamo più 410, non è neanche tanto alto come valore, però è sempre purtroppo in aumento. Andiamo a vedere i ricoverati, i ricoverati con sintomi Marco, il grafico 4. Il grafico 4 fa vedere che oggi sono 2.604 ricoverati negli ospedali italiani, totali di tutta la nostra penisola, più 129 rispetto a ieri, anche ieri era un dato abbastanza elevato, superava i 115 se non ricordo male, i 118, e avevamo invece domenica e sabato due dati in controtendenza, forse refusi più che altro, perché erano in decrescita. Però siamo ancora in aumento. Andiamo a vedere il grafico 0.5 che ci parla invece dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali italiani. Sono in totale ad oggi 239, in salita di 7 rispetto a ieri. Andiamo a parlare del grafico 0.6 dei deceduti, nelle ultime 24 ore siamo a 14 in più. Ricordatevi che nel periodo migliore, possiamo definirlo così, ovvero sia in piena estate, la media era di 5.6 al giorno. Ultimamente abbiamo invece una media di 10-12 decessi per Covid, con il Covid nelle 24 ore. Andiamo a parlare però anche di guariti, il grafico 0.7. Il grafico 0.7 ci fa vedere i nuovi guariti giornalieri, oggi 967 in più rispetto a ieri. Siamo, come detto, sfiorando i 220 mila guariti dall'inizio della pandemia. Andiamo avanti ancora, Marco, con il grafico numero 10. Torniamo a parlare di positivi nelle ultime 24 ore, suddivise per le regioni più importanti. La Lombardia è al 13% fra il totale dei positivi oggi riscontrati. Segue la Campania, ma prima ancora di queste due regioni dobbiamo citare il Lazio. Il Lazio addirittura è al 17%, il resto d'Italia è al 51%, compresa la Liguria. Una cosa importante da sottolineare quando parliamo di questa suddivisione di regioni con più positivi. Sono regioni con il maggior numero di positivi, indipendentemente dalla popolazione. Questo è importante, perché se noi andassimo a pesare i positivi rispetto alla popolazione di ogni singola regione, Udita, Udita, avremmo la regione Liguria oggi in testa fra le regioni più colpite rispetto alla popolazione. Quindi oggi noi stiamo parlando sempre di persone, scusate, di tamponi trovati positivi in generale, regione per regione. Andiamo a parlare un po' adesso di dati regionali. L'abbiamo accennato prima, andiamo a vedere insieme il dato di regione Liguria con il grafico 00. Iniziamo subito dal fatto che oggi abbiamo 105 nuovi tamponi positivi, 12.661 dall'inizio della pandemia. Abbiamo anche 49 in più fra gli attualmente positivi. Fra questi sono 5 in più in ospedale, 165 in totale. E 2 in più fra questi in terapia intensiva, purtroppo. Sono a quota 17. Abbiamo anche costante invece il numero degli isolamenti domiciliari in atto, 1.365. Abbiamo da citare anche il fatto che abbiamo 55 nuovi guariti, cioè non più positivi. Secondo tampone negativo, 8.194 dall'inizio della pandemia. I deceduti, i decessi oggi sono 1.592 in totale dall'inizio della pandemia fra i Liguri. I tamponi fatti oggi, numero importante, possiamo definirlo proprio così, 2.642 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la nostra ASL di competenza territoriale, quindi l'ASL 4, viene registrato il numero pari a 5 di ricoveri e nessuno dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda il dato di Chiavari, per quanto riguarda il nostro Tiguglio, sono 7 le persone chiavaresi attualmente positive al Covid-19. Non varia questo numero rispetto a ieri. Abbiamo un guarito in più rispetto a ieri e abbiamo 13 persone in sorveglianza attiva perché sono venute a contatto con una o più persone positive oppure perché sono rientrate dall'estero per motivi di vacanza o di lavoro. Domande Marco? Andiamo adesso a parlare di dati extra italiani. Perdiamo subito la tabella numero 11, Marco. La tabella numero 11 ci fa vedere che cosa. Quanti tamponi vengono realizzati? In realtà facciamo un raffronto con i dati di altri paesi europei e il nostro dato nazionale. Tamponi realizzati, un dato giornaliero pesato, quindi per milioni di abitanti, quindi un dato confrontabile. Ci fa vedere quanti tamponi vengono fatti ogni milione di abitanti in Gran Bretagna e parliamo quindi di 3358, lo vedete lì. Poco meno vengono fatti in Francia, che sono entrambi, ricordiamocelo, anzi entrambi, tutti e tre, anche la Spagna, che lo vedete subito sotto. Sono tutti paesi europei che hanno un tasso di aumento di positività molto più alto dell'Italia, quindi è anche normale che facciano molti più tamponi rispetto a noi, lo state vedendo. La Germania subito sotto, con 1927 tamponi ogni milione di abitanti e poi noi, 1483 tamponi fatti ogni milione di abitanti. Andiamo a parlare con il grafico 13 anche di un argomento un po' più pesante, cioè colori quali sono positivi, ma sono anche ricoverati in terapia intensiva a causa Covid. Questo nell'ultimo mese, quindi il range è il 21 agosto fino al 21 di settembre. Guardate un po' com'è cambiata. Il 21 agosto in Francia c'erano 367 pazienti Covid in terapia intensiva, oggi c'è quasi il triplo, 912. Stesso ragionamento, stesso rapporto in Spagna, 541 il 21 di agosto, il 21 di settembre, ieri praticamente, 1417 persone ricoverate in terapia intensiva. Guardate però l'Italia, l'Italia anche in questo caso ha triplicato il valore, anzi più che triplicato, da 69-70, siamo oggi, che era ad agosto, oggi siamo a 232 persone italiane ricoverate in terapia intensiva a causa Covid. Infine, gli ultimi altri due dati importanti sono quelli della Germania, che aveva un numero abbastanza importante il 21 di agosto, 236, ma l'ho praticamente stabilizzato. Oggi ne ha 267, anzi ieri. Perché questo? Attenzione, perché la Germania però ha avuto un riaccutizzarsi della pandemia in piena estate, cosa che in Italia fortunatamente non era successo. Nel Regno Unito, nel Regno Unito c'erano 72 persone un mese fa ricoverate in terapia intensiva a causa Covid, oggi ne abbiamo contate 138, quindi poco meno del doppio. Quindi il Regno Unito è una situazione, però dobbiamo sottolineare il fatto che il Regno Unito è una situazione che sembrerebbe diversa, perché? Perché loro contano le persone di terapia intensiva esclusivamente quelle intubate. In realtà ricordiamoci che in terapia intensiva si può trovare per Covid anche senza essere intubati, ma con sintomi molto seri. Questo per quanto riguarda la terapia intensiva. Per quanto riguarda, tornando nello specifico nel Regno Unito, grafico 14, Marco, vediamo l'andamento del Covid in generale in UK. Abbiamo, vedete la montagnetta sulla sinistra, che fa vedere la situazione pandemica di picco, per quanto riguarda l'aumento di casi giornalieri, per poi vedere un nuovo aumento in questi giorni, in queste settimane. Come vedete, sono nuovamente in crescita, non a livelli del class più importante, quindi che era di marzo, di aprile più che altro, e maggio, ma ci si stanno nuovamente riavvicinando purtroppo. Allontaniamoci dal dato inglese per andare a vedere i dati mondiali. Dal grafico 20, Marco, il grafico 20 ci fa un po' il riassunto, come facciamo ogni volta, lo facciamo anche oggi, perché dobbiamo un po' capire con i numeri, e noi diamo numeri, non diamo i numeri, diamo numeri, che è una cosa diversa. A livello mondiale, il dato di oggi non c'è perché è ancora in essere, perché si sta ancora concludendo la giornata delle 22, quindi parliamo dal 21 in giù. Oggi, 21 di settembre, abbiamo in Italia, nel mondo, ancora quasi 9 milioni di persone attualmente positive al coronavirus. Guardate che numero che fa quasi spavento. Ricordiamoci che sono 9 milioni quasi, 8.887.000, fra quelli testati, non sono in totale. In totale, lo abbiamo già detto mille volte, purtroppo ci sono moltissimi asintomatici e altrettanti sintomatici, ma non testati, quindi che esulano dai numeri ufficiali dell'OMS, quindi da questi numeri che stiamo leggendo insieme. Ripeto, oggi abbiamo 9 milioni di persone nel mondo testate positive. 963.000 sono i numeri dei decessi, ad oggi, i 21.394.000 sono i guariti, e abbiamo quindi un totale di, l'altro ieri l'abbiamo superato, 31 milioni di casi totali, 31.245.000. Come vedete, l'andamento, leggendo questa tabella, se riuscite a vedere insieme a me, è costantemente in crescita. In crescita, purtroppo, è gli attualmente positivi, in crescita il numero dei decessi, fortunatamente in crescita anche il numero dei guariti, naturalmente, però la tabella, la colonna, quella più a destra, ci dice che in crescita anche il valore dei totali, che è quello più pesante. Andiamo a vedere insieme il grafico 21, la tabella 21, Marco, la tabella 21 parla dei singoli paesi in classifica, chiamiamola così. Svetta il USA, ovvero segno gli Stati Uniti d'America, con oltre 4 milioni ancora oggi all'attivo, di attualmente positivi al Covid, in salita, sempre in salita, purtroppo. I deceduti sfiorano i 200 mila in America, in salita anche questo, in salita al numero dei guariti, e in salita, comunque, in generale, il numero degli attualmente positivi, che sfiora i 7 milioni in generale. L'India ha superato di poco il milione di attualmente positivi, fra quelli i testati. In India, purtroppo, il test del tampone è molto più difficile che nei paesi occidentali, e quindi questo milione è nettamente riduttivo rispetto alla realtà attuale, come riduttivo anche il numero dei deceduti, sicuramente, e il numero dei totali. Il Brasile è al terzo posto in discesa, in questo caso. La Russia è in salita con 176 mila attualmente positivi. La Colombia, con 105 mila, un altro paese latinoamericano che non sta scendendo, ma di poco, fra gli attuali positivi, ma sale fra i totali positivi. Il Peru, un altro paese che sta, in questo caso, salendo a 130 mila case attualmente positivi. Il Messico, molto basso come numeri di attualmente positivi, ma se andiamo a vedere il totale dei positivi è ancora sopra i 700 mila, e non può scendere perché è il totale, 700 mila totali positivi. La Spagna, il primo paese europeo che si è rimessa a camminare, purtroppo con gli attualmente positivi, anche con i positivi in generale, 490 mila, pensate, in Spagna ci sono 490 mila e oltre casi attualmente positivi. Abbiamo in Sudafrica, infine, 54 mila attualmente positivi, con un totale di 662 mila casi. Tutto questo, che può annoiare, naturalmente, questa serie di numeri, serve per farci capire, per l'ennesima volta lo dobbiamo dire, vorremmo dire il contrario, ma non è così, che la pandemia, il Covid, è tutt'altro che sconfitto, anzi, i numeri stanno crescendo, i numeri continuano a crescere, naturalmente più all'estero che in Italia, fortunatamente, ma è una consolazione magra. Perché è magra? Perché abbiamo imparato a capire che basta uno spostamento della popolazione a livello intercontinentale o internazionale per far nascere nuovi focolai, quindi non c'è un'isola felice, non esiste un paese Covid-free, lo diciamo, nel mondo, e quindi questo ci fa capire che siamo tutti globalizzati, siamo tutti interconnessi, purtroppo, nel bene, ma anche nel male, come in questo caso con questa maledetta pandemia. Quindi, sempre attenzione, sempre dobbiamo stare attenti a seguire i consigli e anche gli obblighi, spesso sono anche per proprio norme da rispettare, a livello di uso dei DPI, cioè delle mascherine, del lavaggio delle mani, con i gel o con il sapone, il distanziamento interpersonale, dobbiamo rispettarlo, dobbiamo continuare a rispettarlo e far sì che sia, diventi purtroppo un'abitudine, dico purtroppo perché non vorremmo farlo, ma deve diventare consuetudine, la mancanza di una vita sociale di contatto può e sta, anzi, sicuramente, logorando la nostra qualità della vita, lo abbiamo imparato quest'estate, lo scorso autunno, lo scorso, scusate, la scorsa primavera, noi dovremo mettere in atto quel prossimo autunno e inverno, non ci si scappa, finché non arriverà un vaccino e verrà fatto su tutti noi, in maniera massiva. Dobbiamo però imparare anche a riuscire a far sì che il sistema sanitario nazionale, come lo fanno in tutte le parti del mondo, riesca a tracciare bene gli attualmente positivi, sintomatici o asintomatici, basta che vengano poi controllati e far sì che chi è venuto a contatto con queste persone, prima o poi positive, purtroppo, possa essere messo in contatto con il sistema sanitario per poiché a sua volta possa essere controllato. E questo si può fare con, ad esempio, l'app Immuni, lo ricordiamo sempre. L'app Immuni può essere installata su qualunque cellulare, è gratuita, non è invasiva e non spia nessuno, se non che, quando è necessaria l'alert per far sì che noi possiamo sapere e quindi comportarci di conseguenza, far sì che noi possiamo essere venuti a contatto nei 14 giorni trascorsi con un positivo e quindi mettersi a contatto con il nostro medico di base oppure con l'AS per sì che ci possano fare un tampone per trastare tranquilli che noi siamo sani oppure no. Sani oppure no. Domani, Marco? Allora io ti ringrazio, rilanciamo l'appuntamento a giovedì prossimo, ritorniamo con l'appuntamento bisettimanale dalle 20 sempre qua su Entella TV. Grazie.